Basta Vaschette, Marevivo lancia la campagna per dire no agli imballaggi monouso in plastica per frutta e verdura, in linea infatti con la proposta di regolamento della Commissione Europea, che intende limitare il ricorso agli imballaggi in plastica monouso, promovendo nel riuso e riciclo con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2023 dell'etichettatura ambientale, che impone l'obbligo di comunicare ai consumatori la destinazione finale di una confezione e i materiali di cui è composto, Marevivo ha lanciato l'iniziativa Basta Vaschette in collaborazione con Zero Waste Italy. L'associazione ambientalista da quasi 40 anni si batte per la tutela dell'ambiente e del mare, chiedendo una legge anche in Italia che ne vieti l'utilizzo delle confezioni della plastica monouso, in particolare per l'ottofrutta, settore in cui ogni anno solo nel nostro paese vengono utilizzati 1,2 miliardi di vaschette di plastica. Sono 1,2 miliardi di vaschette in plastica monouso che vengono prodotte ogni anno per imballare frutta e verdura. La maggior parte di queste vaschette non sono riciclabili, quindi possono finire nell'ambiente e nel mare dove rimangono per sempre. Inoltre possono contaminare gli alimenti che contengono perché rilasciano sostanze nocive per la nostra salute. È per questo che Marevivo, in collaborazione con Zero Waste Italy, lancia la campagna Basta Vaschette per chiedere al nostro Parlamento una legge che regolamenti e vieti, quando non necessario, l'utilizzo di questo tipo di imballaggi. L'obiettivo della campagna è anche quello di far conoscere il problema e di sensibilizzare, affinché sempre di più scegliamo sfuso. Si stima che ognuno di noi generi 180 kg di rifiuti da imballaggio ogni anno, una quantità enorme. E poter scegliere sfuso, specialmente in prodotti come frutta e verdura, ridurrebbe l'utilizzo di questo tipo di imballaggi in plastica dell'80%. Quindi un grande beneficio per il nostro ambiente. Senza plastica si può, dipende da noi, dipende dalle scelte che facciamo. Facciamo una scelta giusta, scegliamo sfuso per l'ambiente e per la nostra salute. Sono Rossano Ercolini, presidente di Zero Waste Italy. Ogni anno vengono sversati negli oceani e nei mari oltre 10 tonnellate di plastiche. La fondazione L.M.Cartor afferma che se continua così nel 2050 avremo più plastiche che creature marine. Ogni anno anche in Italia si producono montagne di imballaggi plastici, tra i quali oltre 1 miliardo e 200 milioni di vaschette, adoperate soprattutto nel confezionamento di frutta e verdura. È insostenibile e insopportabile che per esempio per l'acquisto di un'arancia questa debba essere sezionata in spicchi, confezionata in queste vaschette. Ecco perché l'Associazione Nazionale Mare Vivo e Zero Waste Italy hanno promosso la campagna nazionale pasta vaschette. Ognuno di noi può fare la differenza evitando acquisti in imballaggi monouso. Ovviamente anche i produttori devono fare attraverso la loro responsabilità la loro parte riducendo il ricorso a queste vaschette.